Il McLuis MC4-281 è un altro semi-integrale che fa parte della serie 200 Special Edition su Ford Transit 170 CV, omologato per 4 persone in viaggio con 4 posti letto, misura 745 cm di lunghezza. La pianta interna è caratterizzata dalla classica zona notte in coda posta su grande garage con letto centrale nautico completato da un elegante testiera, armadio sul fondo e un ampio contenitore che aumenta lo spazio di stivaggio, a rendere l'ambiente ben areato e luminoso le due finestre laterali e l'oblo centrale. La zona toilette con bagno e lavabo da un lato e box doccia separato dall'altro, oltre a diventare un comodo spogliatoio grazie ad una porta doppio battente, divide la zona notte da quella giorno. Il blocco cucina con lavello a sinistra e piano cottura con fornella a due fuochi a destra, entrambi in acciaio inox, è completato da pensili e cassetti per lo stivaggio di utensili e stoviglie. L'ampia e luminosa zona living in versione face-to-face presenta due comodi divanetti contrapposti e tavolo centrale e traslabile, con chiusura al libro che aumenta lo spazio di passaggio quando è chiuso e che grazie ai sedili girevoli in cabina guida può accogliere anche se persone a tavola. Altri due posti letto si hanno grazie al basculante matrimoniale anteriore di buone dimensioni. Il veicolo si presenta ben illuminato di giorno, essendo dotato di finestre d'oblò e di un sistema di illuminazione a LED di sera. Mobilio e tapezzerie moderne rendono l'ambiente ancora più accogliente. Dotazioni complete anche per l'MC4 281, infatti come per tutti gli altri modelli della serie 200 Special Edition, presenta un pannello solare, retrocamera, autoradio con comandi al volante, airbag guidatore passeggero, cruise control con limitatore di velocità, oscuranti plissettati in cabina guida, paraorte anteriori in tinta, cerchi da 16 e oblò panoramico nel cupolino. McLUIS MC4 281 Special Edition, in viaggio come a casa.